Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Spero tra l'altro che non si senta un po' di ventilatore, ma quando si arriva in questo periodo o metto il ventilatore o non riesco veramente a fare i video che mi squaglio. Comunque, ben ritrovati ancora una volta a tutti. Oggi vi presento Stranger Things, Attack of the Mind Flayer, edizione italiana a cura di Asmod Italia, che come sempre ringrazio immensamente di cuore per la copia fornita. Ancora una volta si torna a parlare di giochi da tavolo veramente veloci, alla portata di tutti, che detto sinceramente e onestamente, piccola parentesi prima di tornare a parlare del gioco, sono quelli che sto iniziando a preferire, ma anche su titoli più complessi e anche molto più belli, Kickstarter con tante espansioni, sono quelli che realmente sto iniziando ad apprezzare di più, perché sono di quei giochi dove porti porti, lì in tavoli veloci, giochi veloci, sono anche oltretutto veloci da riassemblare, rimettere nella scatola e portarli via, ma soprattutto c'è poco da spiegare a livello di regole e si può divertire chiunque, dalla persona adulta a ragazzini di 10 anni. E quindi per me sono veramente i giochi più indicati, anche perché poi sono quelli che vendano di più, perché sono veramente alla portata di tutti e soprattutto dal costo contenuto. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Stranger Things Attack of the Mind Flayer, edizione italiana a cura di Asmo d'Italia, come dicevo poc'anzi, è un gioco assolutamente alla portata di tutti ed è un gioco di carte. Fondamentalmente, per farvi un veloce sunto delle regole del gioco, avremo due squadre, che poi a seconda dei giocatori una delle due squadre potrà avere più o meno partecipanti, che è quella dei posseduti. Avremo due squadre, come se vi ricordate, nella terza stagione di Stranger Things, dove i ragazzi vengono posseduti dal Mind Flayer, e questa è una cosa che si rivede appunto nelle regole del gioco. Inizialmente verranno date delle carte, un po' delle carte ruolo alla Battlestar Galattica, o anche alla The Thing della Pendragon, ad esempio, dove un giocatore sarà sempre un posseduto. Lo scopo degli altri giocatori sarà quello di riuscire a fare tutti quanti gli obiettivi, le missioni e rimanere umani. Lo scopo del posseduto sarà quello di far perdere ovviamente gli altri, quindi riuscire a possederli tutti quanti. Come si va a possedere un altro giocatore? All'inizio abbiamo una mano di carte, che sono sempre tre carte, che possono essere carte avventura o carte incontro. Noi abbiamo questa mano di carte, e quando la andiamo a giocare, se è una carta avventura, la possiamo dare a qualsiasi giocatore al tavolo, qualsiasi, quindi magari una carta avventura la do a lui, perché nel turno bisogna scambiarsi una carta a vicenda, tutti quanti. Quindi magari, perché poi fondamentalmente ne abbiamo sempre tre in mano, il numero della nostra mano. Io magari al giocatore B do una carta, al giocatore B la da C, C la da me, e tutti quanti dobbiamo rimanere con quelle carte in mano e passare una agli altri. Passando una carta avventura, potrebbe essere una carta magari azione, una carta medica, kit oggetta e quant'altro, una carta incontro non va passata, ma va giocata, risolta, e poi tutti gli altri giocatori devono, ovviamente, fare la carta incontro che è appena stata messa giù, e ci sono delle carte Mind Flayer. Le carte Mind Flayer possono essere date soltanto dal giocatore corrotto, dal giocatore posseduto, non dal giocatore normale. Quindi se il giocatore è posseduto, magari questa carta la passerà a qualcuno, e la carta Mind Flayer non fa lì per lì, non ha un ruolo particolare. Però quando in mano te ne arrivano tre, quindi quando in mano hai tre carte Mind Flayer, perché vi ricordo che ognuno passa una carta, ma la riceve anche dagli altri, quindi quando ti arrivano, ti dovessero arrivare in mano queste tre carte Mind Flayer, il tuo personaggio sarà assolutamente posseduto, che non vuol dire la partita è finita, perché non è fondamentalmente un gioco cooperativo, è un gioco tutt'al più cooperativo a squadre. Quindi se diventi posseduto, cambia soltanto il tuo stile di gioco, e da posseduto dovrai fare il possibile per mettere carte Mind Flayer, o anche in un'altra maniera, in mano agli altri giocatori, affinché diventino posseduti. Ovviamente il posseduto deve cercare di restare nell'ombra, per non farti scoprire, se no gli andrebbero tutti quanti a rimare contro. Ed è un titolo veramente, veramente immediato ed interessante. In conclusione, questo Stranger Things Attack of the Mind Flayer, di Asmo d'Italia, edizione italiana, che tra l'altro ringrazio ancora una volta, è un gioco assolutamente per tutti, dove lo portate, lo portate, fate divertire, come già vi ho fatto vedere, Sword Crafters, è il classico gioco veramente, in tutti i tavoli la gente si divertirà, e il regolamento, anche questo, due o tre pagine, è proprio il classico gioco piccolino, attascabile, lo porti, ci giochi anche sulla spiaggia, perché poi, a parte qualche piccolo token, è un gioco di carte, si tenga le carte in mano, si posano le carte, si passano le carte di mano in mano, e finisce lì fondamentalmente il discorso. Quindi è anche un gioco che si fa bene anche su un asdraio, o al mare, o su un asciugamano. Quindi voglio dire, è un gioco che si può portare da tutte le parti, non è assolutamente solo per gli amanti della serie Netflix, di Stranger Things, ma per tutti, però per gli amanti di, magari, Stranger Things, è più indicato, si divertiranno di più, ed è particolarmente evocativo. Se lo volete ordinare, primo link in descrizione, in sovraimpressione, dalla Gioco Libreria Semola, nostro negozio sponsor. Se lo trovate in lista, ma è finito, o proprio in lista non c'è, lo cercate, non c'è nel catalogo, mandate una mail al supporto, scrivete al supporto a Corrado, al proprietario della Gioco Libreria Semola, e scrivete nella mail, arrivo dal canale di Coridan, il gioco è finito, oppure non c'è, ma si può ordinare comunque? Lui farà il possibile per trovarvelo, per farvelo avere anche fuori catalogo, e usate sempre il codice discount, Coridan7, per avere uno sconto del 7%. Se lo trovate, come ho detto finora, ma è finito, o non c'è, scrivete al supporto, che cosa importantissima. Per spese superiori ai 79€, spese postali e corriere gratis, fuori Italia, anche in tutta Europa, ordinate in 48 ore, ce l'avete direttamente a casa. Quindi è anche un servizio eccellente. Fatemi sapere cosa ne pensate, ed è veramente un titolo molto interessante per tutti. Volete comprare un gioco per una serata? Perfetto. Arrivano gli amici che non vedete da tempo? Oppure volete fare una sorpresa a vostro figlio, a cui piace molto il Demo Gorgone? È il gioco veramente perfetto. Ciao ragazzi, alla prossima.